In questa video lezione vedremo i contenuti della verifica di merito sulla pratica SUAP effettuata dagli enti terzi dopo la trasmissione della pratica da parte del SUAP stesso. La legge regionale 24 del 2016 prevede che nel caso di procedimenti in autocertificazione la ricevuta automatica che viene trasmessa dal sistema informatico all'atto del caricamento della pratica unitamente a tutti i documenti che costituiscono la pratica stessa, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento a decorrere dalla data di presentazione della pratica stessa, quindi immediatamente. L'intervento di fatto può essere realizzato immediatamente per tutti i procedimenti in autocertificazione a zero giorni, mentre per i soli interventi edilizi i soggetti ha permesso di costruire e per quelli soggetti a PAS la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'intervento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAP. Il titolo abilitativo conseguito mediante un procedimento in autocertificazione conserva i termini di validità temporale previsti dalla normativa settoriale vigente. Ad esempio se la pratica sostituisce un permesso di costruire è consentito avviare i lavori entro un anno dalla presentazione della pratica e i lavori stessi devono essere conclusi entro i tre anni successivi all'inizio dei lavori. Tali termini decorrono dalla data di presentazione della pratica per i procedimenti in autocertificazione a zero giorni e dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della pratica stessa per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni. Per tutte le pratiche presentate al SUAPE riguardanti interventi edilizi soggetti a permesso di costruire alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione redatto dal progettista secondo la parametrazione in vigore nel comune interessato. L'effettivo versamento di tali oneri non condiziona la ricevibilità della pratica e quindi la formazione del titolo abilitativo che è valido ed efficace comunque anche in mancanza di tale versamento ma costituisce condizione necessaria per l'effettivo avvio dei lavori. Infatti in carenza di versamento degli oneri concessori dovuti il titolo abilitativo edilizio si intende sospeso. Una volta ricevuta la pratica dal SUAPE i soggetti coinvolti quindi gli enti terzi competenti per gli endoprocedimenti collegati alla pratica eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate. Ricordiamo che nel procedimento in autocertificazione non è richiesto il rilascio di un titolo abilitativo espresso e conseguentemente anche agli enti terzi non è richiesta l'espressione di alcun parere in quanto il titolo abilitativo è già valido ed efficace e posseduto dall'interessato. Le verifiche della pubblica amministrazione si svolgono quindi a valle rispetto alla formazione del titolo abilitativo diversamente dal procedimento in conferenza dei servizi nel quale l'istruttoria viene compiuta a monte rispetto al rilascio del titolo. Le direttive precisano che in caso di intervento edilizio l'ufficio competente in materia edilizia che quindi normalmente è l'ufficio tecnico comunale è tenuto alle verifiche in merito alla sussistenza di eventuali vincoli sull'area nel quale è ubicato l'intervento e alla necessità di titoli abilitativi connessi ai vincoli stessi anche se per l'intervento non è dovuto alcun titolo edilizio. Quindi nel caso ad esempio di interventi di edilizia libera che non sono soggetti nemmeno a comunicazione comunque è l'ufficio tecnico comunale competente che deve verificare se per caso per quell'intervento sono dovuti ulteriori titoli abilitativi in virtù di vincoli che insistono sull'area. Le direttive su APE precisano che le verifiche possono essere effettuate anche a campione secondo le linee guida contenute nell'allegato C alle direttive stesse o secondo la diversa disciplina in vigore prevista dalle norme di settore o dalla regolamentazione dell'ente specifico. Le linee guida sui controlli contenute nell'allegato C alle direttive regionali su APE distinguono tre fasi di controllo. La prima fase è quella del controllo formale che abbiamo visto nell'apposita video lezione. Il controllo formale è di competenza del suo APE e si deve compiere per tutte le pratiche. La fase successiva è quella del controllo di merito di primo livello che è in capo all'ente competente sullo specifico procedimento e deve essere compiuta secondo le linee guida su tutte le pratiche. Consiste nel verificare che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento vigente sulla base di quanto dichiarato nella pratica stessa. Successivamente ed infine abbiamo il controllo di merito di secondo livello anch'esso di competenza dell'ente competente per le verifiche sullo specifico endo procedimento e che a differenza degli altri livelli di controllo può essere compiuto anche a campione. Le linee guida di cui ha l'allegato C individuano come criterio un campione minimo del 25% delle pratiche quando le risorse organizzative non consentissero di effettuare la verifica su tutte le pratiche. Questo controllo di merito di secondo livello consiste nel verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in seno alla pratica e si articola in un controllo di tipo documentale e in un controllo di tipo ispettivo. La prima fase del controllo di merito consiste nel verificare che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla normativa vigente assumendo come veritiere tutte le dichiarazioni rese nell'ambito della pratica dall'interessato ed eventualmente dai tecnici coinvolti. L'eventuale accertamento della veridicità delle dichiarazioni è demandato a una seconda fase della verifica di merito. Vediamo alcuni esempi della prima fase della verifica di merito. In una pratica per l'avvio dell'attività produttiva per la quale occorrono requisiti professionali come ad esempio l'avvio di un esercizio di vicinato nel settore alimentare occorre verificare che i requisiti dichiarati dall'imprenditore quindi ad esempio i titoli di studio oppure i corsi abilitanti oppure l'esperienza lavorativa pregressa siano effettivamente idonei ed abilitanti ad esercitare l'attività dichiarata senza tuttavia accertare che tali requisiti siano realmente posseduti dal dichiarante. Se quello mi ha dichiarato ad esempio di avere un'esperienza pregressa di un anno io so che quello non è sufficiente perché la legge impone almeno due anni di esperienza nel settore alimentare per poter esercitare l'attività. Mentre se ha dichiarato di avere un'esperienza di almeno due anni posso accertare che sulla carta possiede requisiti per esercitare quella determinata attività. Un altro esempio in una pratica di tipo edilizio occorre verificare che l'intervento rientri nella categoria dichiarata quindi ad esempio se l'interessato mi ha presentato la pratica dichiarando un intervento di manutenzione straordinaria vado a vedere tutte le lavorazioni previste e verificare che queste rientrino nella definizione di manutenzione straordinaria che quindi sia corretta la tipologia di intervento selezionata e che sia corretta la tipologia anche di ITER quindi l'autocertificazione a zero giorni e vado a verificare anche se ci sono eventualmente dei vincoli che insistono sull'area per i quali possono essere necessari ulteriori titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento stesso. Nella seconda fase della verifica di merito i soggetti coinvolti sugli endoprocedimenti effettuano un controllo di merito sulla documentazione accertando la veridicità delle autocertificazioni presentate dal cittadino ed eventualmente procedono successivamente ad una verifica in loco. Riprendiamo gli esempi fatti in precedenza per vedere che cosa avviene nella verifica di merito di secondo livello. Nella pratica per l'avvio di un'attività produttiva ad esempio l'apertura di un esercizio di vicinato nel settore alimentare nell'ambito della verifica di merito di secondo livello io vado a verificare che i requisiti che l'interessato mi ha dichiarato siano effettivamente posseduti quindi acquisisco ad esempio le certificazioni del casellario giudiziale e dell'antimafia per i requisiti di onorabilità e vado a verificare che i titoli di esperienza, di studio, di lavoro o di formazione siano stati effettivamente conseguiti dall'interessato che li ha dichiarati. In una pratica edilizia invece la verifica di merito di secondo livello consiste in un controllo più approfondito anche ad esempio della conformità dell'immobile mediante esame dei titoli abilitativi pregressi dello stato legittimo dell'immobile per verificare che non sussistano abusi e che quindi l'intervento sia pienamente conforme alla normativa vigente. Il controllo di merito di secondo livello può essere effettuato anche su un campione delle pratiche. Il riferimento normativo è da ricercarsi nell'articolo 71 del DPR numero 445 del 2000 che prevede che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Pertanto salvo che sussistano specifiche disposizioni delle normative di settore che impongono la verifica su tutte le pratiche l'accertamento della veridicità delle autocertificazioni rese non deve necessariamente essere effettuato per tutte le pratiche ma può essere svolto quando le risorse disponibili non consentano di eseguire il controllo su tutte le pratiche anche su un campione delle stesse. Le direttive su APE individuano questo controllo nella misura del 25% delle pratiche presentate salvo ovviamente che non sussistano fondati dubbi sull'effettiva veridicità di tali dichiarazioni nel qual caso il controllo deve essere comunque effettuato. Oltre al controllo documentale fin qui visto ci può essere un ulteriore approfondimento di controllo da compiersi mediante un'ispezione in loco al fine di verificare che quanto realizzato sia effettivamente conforme a quanto dichiarato. L'ispezione può essere effettuata direttamente dall'ufficio competente per le verifiche quando questo rientri tra i propri compiti oppure può essere demandata a organi di vigilanza come ad esempio la polizia locale o ad altri soggetti aventi analoghe funzioni. Anche in questo caso fatta salve eventuali disposizioni specifiche delle normative settoriali la verifica mediante ispezione può essere compiuta su un campione delle pratiche stesse e le direttive regionali su APE individuano un campione del campione rispetto al quale è compiuta la verifica di tipo documentale. Ricordiamo che al fine di ridurre o eliminare inutili, sproporzionate o non necessarie duplicazioni gli uffici si coordinano nelle attività di controllo per cui se c'è da effettuare un'ispezione è opportuno e previsto dalla legge che gli uffici si coordinano tra loro in modo da effettuare un'unica ispezione. La legge regionale 24 del 2016 individua i termini entro i quali devono essere compiute le verifiche nell'ambito dei procedimenti in autocertificazione. I termini decorrono dal momento in cui il suo APE trasmette agli enti terzi la documentazione relativa alle pratiche. Per i procedimenti in autocertificazione a zero giorni il termine ordinario è di 60 giorni ridotti a 30 giorni in caso di scia in materia edilizia. Mentre per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni il termine ordinario è di 60 giorni. Questo termine di 60 giorni può essere elevato in caso di intervento soggetto a permesso di costruire fino a 120 giorni nel soli casi di progetti particolarmente complessi con l'onere di comunicare all'interessato il raddoppio dei termini. Se la pratica comprende più titoli abilitativi di competenza di soggetti diversi le verifiche devono essere terminate almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini che ho appena indicato quindi entro 55 o 25 giorni perché nei successivi 5 giorni il suo APE deve emettere eventualmente i provvedimenti conseguenti nel caso di verifica di mancata sussistenza dei presupposti dei requisiti di legge come vedremo meglio nella successiva video lezione. Sul sistema informatico suo APE tutto il cruscotto per la corretta lavorazione delle pratiche da parte degli enti terzi è contenuto accedendo nel dettaglio della pratica nel menu endo come vedremo tra un attimo. Accedendo al dettaglio della pratica e cliccando sul menu endo posso visualizzare tutti gli endo procedimenti connessi alla pratica stessa. Per quelli di competenza dell'ente terzo è presente un bottone azioni. Cliccando sullo stesso l'operatore può trovare tutte le opzioni per la lavorazione dell'endo di propria competenza. La prima fase è quella di accettazione dell'endo procedimento in quanto in questa fase è possibile anche rifiutare l'endo procedimento in quanto non di competenza. Ad ogni modo accettando l'endo procedimento e confermando nella stessa tendina di menu azioni è possibile visualizzare vedete l'esito favorevole delle verifiche. La funzionalità per richiedere integrazioni per inviare la comunicazione ex articolo 10 bis oppure per segnare semplicemente come lavorata la pratica anche senza trasmettere alcun esito come vedremo meglio nell'apposita video lezione sull'esito delle verifiche di merito. È possibile inoltre assegnare la pratica ad un operatore o ad un ufficio per smistare diciamo in maniera più efficace i flussi di lavoro.